Allora va bene, adesso devo provare a fare il volo lento, adesso devi fare un po' qua, che io ho fatto un po' qua, no, no, è che c'è il volo del Viper che viaggio come una scherza, e questo qui va più piano, e non mi rischia di fare un po' qua, un po' qua, un po' qua, non mi rischia di fare 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 un po' qua, e poi quellemy, adesso riesco a fare un po' qua, un po' qua, non mi rischia di fare un po' qua, no mi rischia di fare un po' qua. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. e... a tutti. a tutti. a tutti. e... a tutti. e... e... a tutti. e... 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 e...